Il mondo è di scena a Hollywood, tutto pur che ultima trovata, nuotare in pubblico nel suo costumero da mitico. E perché no? Chi più di lui ne ha diviso è Flipper, lo spassoso abitante degli abissimi. Sì, Flipper e suo amico Luke Alpin sono ancora insieme. Flipper, per aiutarmi. Sì, ma c'è qualcosa di più, un'isola sferduta tutta per loro. Flipper è magnifico, una tratta sottomarina, un ascodiglio migliore non esiste. Sono avventure che si leggono nelle fiabe e che ogni intrepido fanciullo sogna di vivere nella realtà. Aiutare Flipper, guida le se puoi. E le naufraghi, niente di più. Ma si sta salendo! Non lo so, ha cercato di colpirti. Che fai adesso? E vada che non si veda. Non si può male morire di fatti. Chi sei tu? Chi non spartirebbe la sua isola privata con una donna? Ma anche che sogni hai fatto. Così avete avuto i pesci. Flipper te li ha portati. È mio amico. È tuo amico. Flipper contro i pirati. È anche un appettacolo di intensi contrasti che vanno dall'esotica magia di un'isola tropicale alla violenza di scelta di malfattori. Mia moglie, le mie due figlie e io, siamo tenuti in ostaccio da Gil Bateson. Flipper e Sandy alla riscossa. Flipper e Sandy alla riscossa. Flipper e Sandy alla riscossa.